Buonasera, una serata importante per questo comprensorio del Reventino e in particolar modo per la mobilità dell'area del Reventino. Un problema questo della ferrovia della Calabria che ormai conosciamo da tanto tempo. Auspichiamo non solo la riapertura perché naturalmente la riapertura può essere giustificata solo se c'è sicurezza, ma auspichiamo soprattutto una presa di posizione molto forte da parte delle istituzioni regionali perché abbiamo necessità di avere un collegamento sicuro ma anche costante. Non è certo il momento di continuare con una mobilità su gomma, non solo per i costi sicuramente maggiori, ma soprattutto per le difficoltà che molti viaggiatori stanno incontrando. Orari che purtroppo sono difficoltosi, che non coincidono né con le entrate a scuola spesso o con le uscite dei diversi lavoratori. Soprattutto perché anche le stesse strade sono 52 km quadrati di curve che sinceramente non è possibile farli ogni giorno. Pertanto veramente un appello accurato affinché la ferrovia della Calabria in sicurezza, ripeto, sia al più presto rimessa in funzione. Grazie. 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 Grazie a tutti